Ciao ragazzi, mi sono accorto dopo aver registrato il video che la qualità audio non era delle migliori perché io avevo già settato e volevo che questo video uscisse con una qualità migliore, purtroppo ho tenuto il microfono in lontananza e quindi la mia voce appunto si sente come se fosse lontana. Non ci avevo minimamente pensato quando mi sono messo a registrare, spero che comunque capiate ciò che ho spiegato e vi prometto che dal prossimo video sarà con la qualità che state vedendo in questo momento, cioè con il microfono attaccato appunto, cioè qua vicino, così mi sentite insomma pulito. Bene ragazzi, scusate ancora e buona visione. Grazie a tutti. E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e oggi parleremo delle spade dell'Eden, ma prima di cominciare come al solito vi invito a iscrivervi alla pagina Instagram che trovate qua sotto in descrizione, anche al canale Telegram dove ci sono due canali, uno dove vi aggiorno appunto con le novità, ogni sabato ci abbiamo appunto i fumetti e quindi lì insomma facciamo le live private. Inoltre vi invito anche a iscrivervi al canale Twitch che è sempre qua sotto in descrizione perché appunto abbiamo cominciato finalmente la saga di Assassin's Creed dove assieme in pratica pian piano ripercorreremo tutti gli Assassin's Creed, dal primo all'ultimo. E questo perché lo faccio? Appunto che se noi prendiamo le 12 tavole, quelle di Re Artù e appunto ci dirigiamo nell'apposito posto che adesso non mi viene in mente, lì insomma inserendo queste tavolozze otterremo la spada di Re Artù. Saremmo degni di poter possedere la spada di Re Artù. Nonché è il Calibur, nonché appunto una spada Isu. E anche ne abbiamo visto un'altra spada, quella che abbiamo visto con Assassin's Creed Unity, con Arnaud Dorian, abbiamo scoperto appunto questo manufatto. Ma oggi immergiamoci bene e scopriamo quali sono gli effetti della spada dell'Eden o delle spade dell'Eden e andiamo a vederne altre possibili che potrebbero esistere. Quindi questo è un potrebbero, non è detto che siano due, sono sicure e confermate. Le altre che vi andrò a dire prendetele sempre sotto braccio perché non sono confermate, però ovviamente sono andato a fare una ricerca e assieme andremo a leggere appunto ciò che appunto ho scoperto indagando insomma. Allora, tanto per cominciare, io ho comprato questo libro qui, come vi avevo annunciato nel video di Twitch. Questo libro qui si chiama Assassin's Creed Graphics, che contiene tutta la lore di Assassin's Creed. Allora, andiamo a vedere appunto questo estratto che ho preso dal libro. Come vedete, spade dell'Eden, create da Efesto, scienziato Isu. In realtà, in internet c'è scritto che sì, è stata creata da Efesto, ma è anche da Consus, nonché Conso. Scienziato Isu comunque, creato da Efesto. Allora, poteri, carisma, combattono gli effetti di altre illusioni. Quindi in pratica, se tu possiedi la spada dell'Eden, puoi combattere le illusioni che appunto alcuni manufatti che abbiamo visto sono in grado di creare, nonché le mele dell'Eden e anche i bastoni, che andremo a vedere nel prossimo video. Se la spada viene attivata da un cuore della confraternita, o maneggiata da un ibrido con DNA Isu, può proiettare facile energia e consentire un teletrasporto istantaneo, utilizzato in particolare da Re Artù, Attila, Giovanna d'Arco e Gengis Khan. Allora ragazzi, c'è una piccola punto da fare, non so se tutti voi lo sappiate, ma Re Artù era un templare. Re Artù era un templare cosa? Sì, Re Artù era un templare. E lo stesso Alan Rikin, ci viene detto appunto da lui, che la visione però di Artù, quella dei templari, era completamente sbagliata. Ora che abbiamo visto i poteri effettivi delle spade dell'Eden e abbiamo visto alcuni possessori, ora ci concentreremo a vedere altri possibili possessori e altre possibili spade, che potrebbero essere le stesse o possibili spade dell'Eden che, diciamo, alcune le abbiamo anche viste all'interno del gioco, altri potrebbero dire che non sono spade ma sono semplicemente armi Isu. Allora, ho preso quest'articolo qua, che in pratica racconta bene delle diverse spade dell'Eden. Allora, qua non vi ripeterò appunto gli effetti perché ve li ho letti appunto dal libro. Adesso ci concentriamo qua. Il primo possessore della spada dell'Eden fu Perseo. Allora, almeno dovrebbe essere Perseo. Perché Perseo? Allora, se noi giochiamo appunto ad Assassin's Creed 2 e facciamo i glifi di Clay Kaczmarek, quelli in Assassin's Creed 2, quando siamo appunto con Ezio all'interno dell'Animus, risolviamo quegli enigmi, notiamo un'immagine, un raffresco, dove abbiamo Perseo che combatte contro Medusa. E guardate in mano cos'ha? Una spada. Allora, viene appunto, c'è un'ipotesi appunto che per uccidere, insomma, Medusa, Perseo abbia utilizzato un frutto dell'Eden, cioè un frutto dell'Eden, abbia utilizzato una spada dell'Eden. Anche perché la spada dell'Eden, appunto, oltre ai poteri che vi ho detto in precedenza, dà anche vigore e forza a chi la maneggia. È molto probabile che Perseo abbia ricevuto da suo padre, Giove, una spada dell'Eden e lui l'abbia utilizzata per mozzare la testa a Medusa. Poi dopo è vero che noi abbiamo visto in Assassin's Creed Odyssey, nel videogioco appunto, se facciamo il DLC, quello di Atlantide, che siamo noi a combattere Medusa e scopriamo che appunto sono degli esseri creati appunto dagli Isu, nonché Giunone e Aita, per perfezionare, diciamo, la razza umana. Ma in realtà sono errori che quindi creano proprio dei veri e propri mostri e Medusa è tra questi. La seconda spada è la spada quella che ha avuto Attila, il re degli Unni. Come l'ha ottenuta Attila la spada? Si narra che Attila sia venuto in possesso di questa spada disotterrandola dal campo di un contadino che l'aveva seppellita in precedenza. Una volta, un pastore, una volta che Attila entrerà in possesso di questa spada riuscì a costruire il suo immenso impero che tutti noi conosciamo, fino ad arrivare appunto al centro d'Europa. Questa spada di Attila viene chiamata appunto spada di Attila o anche spada di Marte. Ottocento anni dopo si è entrata in possesso di Gengis Khan. Visto che Gengis Khan era una minaccia, Altair, lo stesso Altair e Darim partono per uccidere Gengis. La spada rimase comunque in possesso dei Mongoli. fu Ulegu Khan, nipote di Gengis, che la utilizzò per espandere ulteriormente il regno mongolo e pose fine alle portezze degli assassini, distruggendo Masyaf, che noi conosciamo benissimo con Assassin's Creed 1, e Alamaut devastando Damasco. Ecco ragazzi, questo è quello che succede con la seconda spada dell'Edea, almeno quello che si suppone che possa essere successo con questa spada. Ovviamente non si sa se è la stessa di quelle due che sono note, oppure possono essere altre, però si sa che Attila in un periodo storico ha effettivamente avuto la spada. Ebbene ho letto anche in questo libro qua, quindi se è presente in questo libro, molto probabilmente potrebbe essere andata così. Quello che vi ho accennato prima, Re Artù è molto probabile che sia entrato appunto in possesso della spada dell'Eden, e questa invece l'abbiamo vista effettivamente, quindi questa è la spada che noi abbiamo effettivamente visto adesso in Inghilterra con Eivor. e Artù riuscì a estrarre questa spada da una roccia e la nominò Excalibur. Allora questa informazione ci viene anche sempre detta dai gliffi di Clay, quindi in uno dei gliffi è presente appunto Re Artù. Allora ragazzi, qui c'è una supposizione molto interessante. E' possibile che il possessore, chi è degno insomma di veramente tenere questa spada dell'Eden, e io sono un po' d'accordo con questo utente che ha scritto questo appunto, cioè è molto probabile, visto che viene citato proprio che la spada è inserita in una roccia, è molto probabile che la persona che potrebbe estrarre o potrebbe maneggiare una qualsiasi spada dell'Eden debba avere DNA ISU, o essere almeno un ibrido, quindi o un ibrido o un ISU stesso. Perché dico questo? Perché per quelli che abbiamo visto finora eh ragazzi, Eivor è riuscito a maneggiarla, quindi lui è riuscito a estrarla. Re Artù potrebbe essere un ibrido. Poi abbiamo Perseo, Perseo era, cioè secondo le leggende greche, Perseo era mezzo uomo e mezzo dio, quindi aveva comunque il padre Giove, che era veramente suo padre. Quindi potrebbe essere che, anche qua come c'è scritto per esempio, le recarnazioni anche di Aita come Mole e Germain. Quindi chi ha, diciamo, dei geni ISU potrebbe maneggiare, può maneggiare insomma questa spada. E poi c'è un'altra versione della leggenda che Re Artù non estrasse la spada dalla roccia, ma pensi gliela diede la dama di, la dama del lago, la dama del lago, la famosissima dama del lago. E lei è molto probabilmente una ISU che ha dato semplicemente questa spada ad Artù. O qua ce n'è un'altra che non abbiamo visto all'interno del gioco di Assassin's Creed Valhalla, ma cita il nostro carissimo Odino. Allora, si narra che Odino fu in possesso di una spada dell'Eden e la mise all'interno di un albero. Cioè, la incastonò in un albero molto grande, chiamato Barn... scusatemi per la pronuncia... Barnstokr, dicendo che chiunque fosse riuscito ad estrarla avrebbe potuto tenerla e utilizzarla. Fu dunque il guerriero Sigmund a trovarla, estrarla e tenerla. Lo figlio, Sigfrido, la utilizzò per uccidere il drago Vampyr. Ecco qua ragazzi, un'altra leggenda appunto della spada dell'Eden. Passiamo alla spada dell'Eden numero 5. Questa spada qua, adesso vi leggerò, questa spada qua proviene da un videogame o un videogioco, ma non è mai uscito su piattaforma, ma bensì su iOS. Questo si chiama Assassin's Creed Memories. Assassin's Creed Memories è un gioco di carte, e la quale ovviamente, sì, giochi a carte, io purtroppo non avendo un telefono Apple, insomma non ho mai potuto giocare a questo gioco qua. Però si dice che appunto all'interno di questo gioco di carte ci sia comunque una storia. E allora andiamo a leggere insieme quello che mi ha colpito. Allora, una spada passata in sordina è quella mostrata nel gioco di Assassin's Creed Memories. Il signore della guerra, Takeda Shingen, trovò una spada e la utilizzò per unificare il territorio sotto il suo comando e farne di Kyoto la capitale. Come avrete capito, pertanto, ci troviamo in Giappone sul fine del XVI secolo. Quindi questo gioco di carte qua è ambientato in Giappone nel XVI secolo, alla fine. La spada rimase in possesso di Shingen fino alla sua morte, avvenuta nella battaglia di Mikatagara. Qui Tokugawa, Ieyasu, assoltò due assassini, Hattori Hanzo a sinistra e Honda Takatsu a destra per uccidere Shingen e recuperare il manufatto. La spada passò poi nelle mani di Oda Nobunga a sinistra, un alleato di Ieyasu. Costui usò la spada nello stesso modo in cui la usò Shingen e venne pertanto ucciso da Yamakui Taka. Yamuki Taka, scusate. Da Yamuki Taka a destra da lui. Un'assassina cinese che portò il manufatto in Cina dove pare essere conservato tuttora. Ecco ragazzi, questa è una cosa in più che noi non possiamo sapere, almeno chi non ha mai giocato al gioco di Assassin's Creed Memories, e insomma adesso la sappiamo. Ma passiamo all'ultima spada dell'Eden che noi conosciamo, abbiamo visto, e si trova in Assassin's Creed Unity. La spada dell'Eden numero 6. Se voi vi ricordate, a inizio gioco impersonifichiamo un soldato di Jacques de Molay, un templare, che aveva appunto nelle sue mani una spada dell'Eden. Quindi cosa succede? Noi siamo questo soldato che dobbiamo nascondere sia il libro che la spada perché veniamo, cioè, ci assediano, insomma. E, insomma, ecco, come c'è scritto qua, perché appunto Filippo il Bello, Filippo il Bello, assieme appunto all'appoggio di Papa Clemente V, qua è, diciamo, la caduta, cioè la famosa caduta che noi conosciamo nella storia dei Templari, no? Jacques de Molay ordinò al suo addepto di nascondere la spada e il Codex Spater Intellectus. all'interno della cripta di un tempio. Cioè, noi siamo proprio lui nel gioco, ma comunque lo vedremo anche assieme, assieme appunto nella live di Twitch. Il manufatto venne poi recuperato da Giovanna d'Arco, quindi... Quindi sempre questa spada qua fu recuperata da Giovanna d'Arco che la usò per aiutare l'esercito francese contro gli inglesi durante la guerra dei Cent'anni. Quello che si vocifera possa essere il prossimo Assassin's Creed, ovvero, da quel che per il momento viene chiamato così, viene chiamato Assassin's Creed Champions. Giovanna venne tuttavia dichiarata eretica e venne messa a rogo. In questo modo, i Templari riuscirono a entrare in possesso della spada e ne mantennero il loro possesso fino alla Rivoluzione Francese. Che poi, chi incontriamo nella Rivoluzione... Cioè, chi troverà la spada durante la Rivoluzione Francese? Arnaud Dorian. Allora, infatti, nel 794, François Germain, leader di una fazione estremista dei Templari, si possessò della spada. Non la mantenne a lungo in quanto l'assassino, come ho detto prima, Arnaud Dorian e la Templare Elise della Serre, in uno sforzo congiunto, riuscirono a strappargli da nello scontro. Tuttavia, la spada è stata danneggiata. Ecco, ragazzi, che abbiamo visto questi manufatti dell'Ener, abbiamo visto il loro potere, dove li abbiamo viste? All'interno dei giochi o anche, appunto, diverse supposizioni, c'è anche da fare un piccolo appunto. C'è anche da parlare della spada di Damocle. La spada di Damocle? La spada di Damocle potrebbe essere anche una spada Isu. E chi ha avuto il possesso della spada di Damocle? Beh, il nostro Deimos, cioè Alexios, che poi, una volta che verrà assassinato, questo succede attraverso le scelte, no? Se scegliamo di assassinarlo da Cassandra, otteniamo comunque la spada, cioè, lo otteniamo in tutti e due modi, se sblocchiamo il finale buono e il finale cattivo. Quindi, se salviamo Alexios o uccidiamo Alexios, insomma, Cassandra ne entrerà in possesso della spada di Damocle, nonché un possibile artefatto Isu. Bene, ragazzi, penso di avervi detto abbastanza cose, abbastanza cose che sono venuto a conoscenza, sia tra ricerche tra cose che sapevo di mio e anche grazie a questo libro qui. Spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video che escono e tutto questo e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella! Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie